Eminenza, l'invito di Giovanni Battista Montini nella preghiera della prima lettra pastorale nel 55 Signore, tu mi sei necessario. Questo e non con gli occhi bendati, è questa la necessità della Chiesa di oggi? Sì, certamente. Abbiamo meditato dei brani molto profondi, abbiamo scoperto e riscoperto dopo qualche anno di oblio la grandezza di questa figura che domani la Chiesa proclama beato, cioè punto di riferimento per tutti e direi che proprio la sensibilità ecclesiale è marcata in questo grande pastore lui che l'aveva respirata fin dalla fanciullezza nel contesto di una realtà bresciana aperta ad una comunicazione della fede ai bambini molto forte e man mano che cresceva nell'adolescenza anche capace di mostrare appunto l'incidenza della vita di fede sulla realtà e sulla convivenza degli uomini poi nel suo lungo cammino che l'ha fatto passare anche da noi dove ha imparato che cosa significhi guidare concretamente una Chiesa bella, affascinante e complessa come la Chiesa ambrosiana fino al papato che è stato caratterizzato dalla sua guida del concilio in un momento non facile e nello stesso tempo poi lo ha accompagnato negli anni dell'inevitabile travaglio che segue sempre ad un grande concilio. Allora credo che noi dobbiamo essere come fedeli ambrosiani e come uomini lombardi pieni di gioia per questo dono ma dobbiamo appunto, come lui ci ha detto, affrontare nel quotidiano radicati nella presenza necessaria di Cristo tutto l'umano come ci andiamo ripetendo in questi anni in modo particolare dobbiamo essere molto attenti all'educazione dei figli, ecco il tema della comunità educante a richiamare e a favorire le famiglie come soggetto diretto di evangelizzazione anche interpretando i segni dei tempi che lo Spirito ci manda ad aiutare un cambiamento profondo in noi chierici, nel nostro stile di vita nel modo di affrontare la grande e difficile responsabilità che abbiamo tutto questo mi sembra racchiuso in questa figura che proprio per questa ragione dobbiamo riprendere in termini organici anche solo il patrimonio dei grandi discorsi e delle omelie milanesi che è sterminato potrà essere realmente un terreno da ridissodare per noi e da riscoprire contento di tante persone ambrosiane, di tanto popolo suo? molto, molto, sì, soprattutto è stato molto bello per me passare di corsa dal sinodo e dalla sua conclusione a questa immanenza fraterna al popolo di Dio di cui anch'io sono parte perché questo dà gioia e consolazione e soprattutto tanta speranza